Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti e cominciamo la seconda giornata per le scuole della Fiera delle Parole, io mi chiamo Francesco Pasquale, vi do il benvenuto a nome del festival e anche dell'ufficio progetto giovani del comune per il quale lavoro, con molti di voi ci siamo incontrati forse negli anni scorsi e ci incontreremo ancora durante, spero, durante questo anno scolastico che ha appena cominciato. Oggi è un venerdì e quindi cominciamo un venerdì che è anche un venerdì per il clima, è un fighter for future. Il nostro ospite di questa mattina è Fabio De Otto, Fabio è un giornalista e scrittore, ieri abbiamo presentato il suo ultimo lavoro, si chiama Un altro mondo, è uscito qualche mese fa per Bompiani, per la casa editrice Bompiani. Fabio collabora a un progetto della stessa casa editrice che ha l'intenzione di portare proprio nelle scuole le ultime pubblicazioni della casa editrice, quelle che riteniamo siano più interessanti da discutere assieme a voi. Sono sicuro che il tema dei mutamenti ambientali ci riguardi tutti e che sia tra i vostri principali interessi. Sapete che il 31 di ottobre prossimo comincia a Glasgow in Scozia la conferenza delle Nazioni Unite dedicata a questo tema, siamo insomma tutti nell'attesa di capire cosa verrà fuori da quei 12 giorni di discussione, e però questa mattina cominciamo a ragionarne assieme delle cose che sono possibili e di come percepiamo quelle che sono appunto possibili e quelle che invece sembrano non più modificabili. Ci sarà tutto il tempo per le domande alla fine dell'esposizione di Fabio De Otto e vi chiedo dall'inizio di partecipare senza troppi imbarazzi. Siamo in tanti, ci sono anche collegati online altri ragazzi di altre scuole, pure a me piace particolarmente stare su un palco, ma siamo qua per chiacchierare assieme, quindi non fatevi troppi problemi. Grazie ancora. Ciao, grazie Francesco, grazie a voi per essere qui. Allora, il titolo di questa lezione, la chiamiamo lezione perché siete studenti, ma in realtà io vorrei che come diceva Francesco fosse anche un po' una conversazione, quindi non fatevi problemi ad alzare la mano, a esprimere obiezioni, fare domande, ci sarà tutto il tempo di parlarne, però diciamo che l'oggetto di questa lezione è perché abbiamo paura delle cose sbagliate. Più nello specifico, la domanda che ha guidato un po' i miei ultimi due anni di lavoro e il libro che ho scritto, che ho pubblicato ormai tre mesi fa circa, è questa. Perché la crisi climatica non ci preoccupa abbastanza? Ora, io sono contento di essere con voi perché so che statisticamente rispetto alla mia generazione, alla vostra generazione, si preoccupa di più per la crisi climatica. Per la mia generazione e per quelle prima è molto difficile fare questo tipo di discorso che faremo oggi. Ma perché la crisi climatica non ci preoccupa abbastanza? Abbiamo attraversato una delle stati più assurde della nostra esistenza, un'estate dove le manifestazioni, le ricadute della crisi climatica sono state incontrovertibili, sono state tantissime, molto varie. Il modo in cui sono state raccontate queste manifestazioni, quindi il caldo record in Canada, le alluvioni che ci sono state in Germania, in Belgio, le grandinate che ci sono state in provincia di Como, sono state raccontate però come fenomeni separati, mentre in realtà sono tutti tutti i tasselli dello stesso mosaico. Ma prima di entrare nello specifico e di capire perché il nostro cervello si attiva per alcune cose e non per altre, quindi non ci sta mettendo al riparo a livello proprio di reazione personale da questo problema, questa minaccia esistenziale, non esito a definirla, vi voglio parlare un po' del viaggio che ho fatto e che ha portato alla scrittura di questo libro perché questa domanda nasce proprio da quel viaggio e quel viaggio parte da qui. Allora, molti di voi avranno già visto questa immagine o una delle varie declinazioni di questa immagine, è l'immagine iconica con cui si racconta il cambiamento climatico. Un orso polare disperso su una zattera di ghiaccio, spesso e volentieri smagrito, questa volta non sta così male ed è l'immagine con cui, almeno quando io avevo la vostra età, era l'immagine che si trovava ogni volta su un giornale, su una rivista, ogni volta che si parlava di cambiamento climatico, allora si chiamava effetto serra, si mostrava quest'orso o comunque non proprio quest'orso, però questo tipo di immagine. Soltanto che questa è un'immagine che io ho sempre trovato poco adatta a raccontare questo problema. Perché? Perché è un'immagine che non parla di noi. Parla a noi nel senso che tu vedi questa immagine e dici, ok, c'è un problema, il problema lo stiamo causando noi, però è un problema che non riguarda la mia vita quotidiana. Perché nella mia vita quotidiana orsi polari non ne vedo, a meno che voi non abbiate anche, non fate i pendolari dall'Artico a qui, e non ci sono zattere di ghiaccio, non c'è in questa foto nulla che rimandi al mondo umano. E quindi secondo me è una foto, un'immagine, un simbolo che ci allontana un pochino dalla questione, perché ci dice noi dobbiamo risolvere questo problema perché è giusto risolverlo, non perché ci riguarda. Dopodiché mi sono imbattuto in un'altra immagine. Nell'inverno del 2019 è successa una cosa, in un villaggio della Russia Artica, che è questa. In questo villaggio, questo piccolo villaggio della Russia Artica, a un certo punto un branco di orsi polari, una cinquantina di orsi polari invade il villaggio. Rovescia Cassonetti, colonizza la discarica, abbatte le porte azzampate, invade il villaggio, rompe quella barriera invisibile e inesistente in realtà tra l'uomo e la natura, e dice sorpresa, noi che siamo sempre stati all'orizzonte, magari ci vedevate passare ogni tanto, adesso siamo qui perché non abbiamo più da mangiare. E uno dei motivi principali è il riscaldamento globale. E questa immagine mi ha fatto capire che, insieme a questa, che è un'altra immagine di quei giorni, mi ha fatto capire che questo poteva essere un modo migliore per raccontare la questione e soprattutto che la questione climatica c'era sempre stata raccontata come qualcosa che riguardava altri da noi, quindi le generazioni future, oppure gli animali, la natura, la biodiversità intesa come qualcosa che stranamente non ci dovrebbe riguardare in prima persona, mentre in realtà, e lo sappiamo da tempo, ma negli ultimi dieci anni è diventato palese, le ricadute del cambiamento climatico ci sono già e stanno già cambiando il nostro modo di vivere. E quindi il mio viaggio è nato da lì. Mi sono detto, io voglio andare a vedere in vari posti dove le ricadute del cambiamento climatico sono già visibili, come la gente sta imparando a vivere in un mondo diverso. Ora, iniziamo a vedere un po' come funziona il nostro cervello. E voglio parlarvi di uno studio interessante. Ora qua ci saranno delle scritte. Voi non state a prendere appunti, perché poi se voi volete, io questo PowerPoint ve lo lascio, quindi l'ho scritto un po', proprio per darvi la possibilità poi nel caso a casa di leggervelo meglio. Comunque, nell'aprile del 2018, su una rivista importante di biologia, appare un articolo molto particolare che si chiama l'apparatossale estinzione degli animali più carismatici. In questo studio sono andati sostanzialmente a intervistare una serie di persone per capire quali fossero gli animali preferiti dalle persone. Ovviamente l'obiettivo non era solo quello, l'obiettivo era anche capire che percezione le persone hanno del rischio che corrono i loro animali preferiti. scusate. Quello che è emerso ci si aspettava che più un animale fosse noto, quindi più fosse carismatico, più piacesse alle persone, più fosse tutelato. Le persone che hanno partecipato a questo studio vivevano in questa convinzione. La realtà è che era vero il contrario, perché l'animale che piace di più in assoluto è la tigre. Però la tigre, la presenza della tigre oggi è ridotta a meno di un decimo della sua diffusione originale. Poi c'è il leone. E in Africa di leoni è rimasto l'8% della popolazione storica. E infine, lo vedete lì, l'elefante. E negli ultimi anni, negli ultimi nove anni, il numero di esemplari di elefante è diminuito del 62%. E si andava avanti così, c'era dentro anche l'orso polare ovviamente. Allora, com'è possibile questa cosa? È possibile, sostengono gli autori dello studio, perché noi tendiamo a costruirci delle immagini mentali, degli animali, ma di qualunque cosa in realtà, delle immagini mentali che salviamo in una cartella della nostra testa e rimangono sostanzialmente inalterate. E queste immagini mentali noi non le costruiamo con l'esperienza diretta sempre. A volte con un'esperienza indiretta o addirittura con un'esperienza virtuale. Lo spiego in parole più povere. Noi siamo bombardati di immagini di questi animali che piacciono di più. Quindi il leone, la tigre, l'elefante, li vediamo ovunque, la giraffa, la zebra. Anche se noi non abbiamo mai visto elefanti, giraffe e zebra, li vediamo in realtà ovunque, nei documentari, nei film, nei cartoni animati, sulle scatole dei cereali. E questo fa sì che noi ci facciamo l'idea che quegli animali facciano parte del nostro mondo e che quindi non siano tanto a rischio. Gli animali a rischio, se io vi avessi chiesto prima di questa presentazione quali sono gli animali a rischio, voi non mi avreste tirato fuori probabilmente la tigre o l'elefante. Avreste iniziato a pensare ad animali un po' più esotici, un po' più strani. Questo discorso è interessante perché ci dice qualcosa su come funziona il nostro cervello. Quindi noi, siccome continuiamo a vedere delle immagini, noi inconsciamente pensiamo che, ok, questi animali sono i più importanti, quindi qualcuno starà facendo qualcosa per tutelarli. E in realtà è vero il contrario, sono tra gli animali più a rischio, anche quelli più carismatici. Quindi, come dicevo, questa è una scorciatoia cognitiva, oggi parleremo un po' di questo, delle nostre scorciatoie cognitive, ovvero dei modi, diciamo delle strade che il nostro cervello prende per semplificare una realtà che è troppo complessa e farcela, diciamo, comprendere in maniera più semplice. È qualcosa che è servito ai nostri antenati a sopravvivere in un mondo molto più pericoloso nell'immediato, del nostro, anche perché erano molto più vulnerabili di noi, non avevano le strutture di difesa e di protezione che abbiamo noi, che però ora noi ci ritroviamo con questo armamentario cognitivo e percettivo che, di fronte a una cosa come la crisi climatica, ci mette nella posizione di non renderci conto del casino in cui siamo, detto proprio in parole povere. Ok, ma parliamo del viaggio che ho fatto. Vi voglio mostrare questa immagine. Voi guardate questa immagine, che cosa vi viene in mente? Una parola che vi viene in mente? Sì, no, ma al dire ok. Beh, giusto, bravo. Non ti sento, urla? Soldi! Ok, molto bene. Ok, mi aspettavo qualcuno avrebbe detto paradiso, perché sembra, no? È l'immagine che abbiamo un po' paradisiaca, la meta da cartolina paradisiaca, ed è il primo posto in cui io sono andato. Questa immagine adesso ve la tolgo e ve la rimostrerò dopo. Perché le Maldive in realtà sono anche fatte così. Questa è la capitale delle Maldive, che è Malè. Allora, le Maldive sono uno dei paesi più a rischio del globo di fronte all'inalzamento delle acque, perché stanno in media a 1,2 metri sopra il livello degli oceani. Di qui al 2100, se le cose non cambiano, e anche un po' se cambiano, nel senso che comunque il riscaldamento globale andrà avanti un po', anche se noi domani facciamo tutto quello che dovremmo fare, di qui al 2100 rischiano di essere inghiottite dagli oceani, dall'oceano indiano. Nello specifico, Malè è questa capitale iper urbanizzata, sovraffollata, piena di cantieri, piena di motorini, ed è una capitale islamica. Nel senso che noi siamo abituati a considerare le Maldive come i resort, quindi queste lingue di sabbia con tutte queste strutture alberghiere, con persone in bikini che bevono mojito, eccetera. Quando in realtà i bikini sono vietati, gli alcolici pure, la carne di maiale pure, questo nelle vere Maldive. Nei resort invece si può fare tutto. Nelle vere Maldive la situazione è questa, ovvero c'è una città molto urbanizzata con l'acqua che via via se la sta mangiando. Vi dicevo, è pieno di motorini perché in uno dei posti che combatte di più per la riduzione delle emissioni, in realtà tutti si spostano in motorino. E attenzione, Malè è una città che in mezz'ora è attraversato completamente a piedi. Però tutti si spostano in motorino, ci sono file ai benzinai continue. Ed è un posto dove hanno una serie di problemi, tra cui il fatto che le falde acquifere si stanno esaurendo molto in fretta, perché aumentando la popolazione questi succhiano sempre più acqua, svuotandosi le falde acquifere diventano vulnerabili all'intrusione di acqua salina e quindi diventano poi inutilizzabili. Il risultato è che alle Maldive l'unica acqua che bevi è quella che ti portano in questi boccioni. Questa è un'altra foto di Malè. Però io sono stato a Malè e mi sono detto, ok va bene, questo è una specie di centro cittadino ritagliato e incollato un metro sopra il livello dell'oceano indiano. Perciò diciamo che l'immagine mentale che avevo delle Maldive è già stata messa in difficoltà. Quindi io avevo quell'immagine mentale, pensavo che le Maldive fossero quella roba lì e ho trovato invece una città e un paese con la data di scadenza di fatto. Ma un conto è andare in una città sovraffollata. Ci saranno anche le vere Maldive dove loro pescano, vanno al mare. Insomma ci doveva essere anche una via di mezzo tra i resort e quella città e l'ho trovata questa via di mezzo e quando ci sono arrivato mi sono detto, cavolo, qui è un paradiso terrestre, la foto di prima. E ho incontrato una persona che vive lì da sempre e questa persona mi fa, ecco, questa è la classica cosa che dice una persona che arriva da lontano in questa isola, questa isola si chiama Touloustou ed è un'isola non turistica dove vivono loro, vivono di pesca, vivono di una serie di commerci vari, ci sono alcune anche piccole fabbriche, però sono le vere Maldive. E io dico, le vere Maldive non mi sembrano messe così male, no? Però la realtà è che lui inizia a farmi notare una serie di cose. Ad esempio che, se guardate, la spiaggia dura pochissimo. La spiaggia che inizia là sopra dove ci sono le palme dritte, lui mi spiega, una volta la spiaggia partì, una volta dieci anni fa, la spiaggia partiva da lì e arrivava fino a dove il mare diventa più scuro. Quindi tutta questa parte di acqua che vedete era coperta dalla spiaggia. E mi dice addirittura, una volta qui potevamo prendere una lamiera, metterci nella parte più alta e scendere giù tipo bob, tipo slitta, per arrivare fino all'acqua. Cosa che adesso non si può più fare perché? Perché per colpa dell'intervento umano, per colpa del cambio di flusso delle maree, per colpa dell'inalzamento delle acque, le spiagge alle Maldive stanno letteralmente scomparendo. Tutta quella spiaggia che c'era lì non c'è già più e il motivo per cui quelle palme sono inclinate non è perché c'è vento, è perché stanno perdendo la terra in cui affondano le radici. E quindi quella palma qua che è tenuta su, questa qui piccola, che è tenuta su con un bastone, è una cosa che si vede solo a un secondo sguardo, in realtà sarebbe già crollata senza quel bastone. E ogni mese crolla una palma. E quindi insomma, questo perché vi sto raccontando questa cosa e vi sto mostrando questo? Perché è la cosa che mi ha convinto che non bastava andare in un posto a raccontare le conseguenze del cambiamento climatico, le ricadute già attuali del cambiamento climatico, ma avevo anche bisogno di capire come funziona il nostro cervello. Perché io sono una persona che per quanto istruita sulla questione, appena arrivato qui, l'impressione che ho avuto è io sono in paradiso, non sono in un posto che sta morendo o che sta per essere cancellato dalle acque. E capite, avrete capito cosa c'entra a questo punto il discorso sugli animali, no? Noi siamo così abituati a vedere la cartolina delle Maldive che abbiamo un'immagine mentale solidissima che facciamo fatica a sostituire con quella reale. E quella reale è fatta appunto, qua si vede ancora meglio, di palme che crollano. Vedete il livello della spiaggia di una volta che era là sopra? Poi da qui si vede molto meglio quanto il mare si stia mangiando tutto. Qui ci sono sacchi di cemento buttati sulla spiaggia per contrastare l'erosione che le maree fanno sulla spiaggia. E qui adesso non sto troppo a parlarvi delle Maldive perché rischio di star qui tutto il tempo. Però poi ci sono anche queste immagini dove tu guardi l'orizzonte e dici che bello c'è il tramonto, c'è un'isola con magari del fumo che esce, chissà cosa stanno facendo. Quell'isola lì, che si chiama Tila Fusci, se voi andate a cercare, so che lo farete subito se non vi ho tolto i cellulari, ma se voi andate a cercare Tila Fusci su Google, vedete veramente uno scenario apocalittico perché è un'isola fatta di spazzatura. Perché voi immaginate le Maldive sono una sorta di grandissima ghirlanda di isole dove però non c'è modo di riciclare, non ci sono impianti di riciclaggio veri e propri e quindi non si sa dove mettere tutti i rifiuti che producono i maldiviani, che non sono pochi, ma soprattutto i turisti che sono tantissimi e soprattutto sono italiani in grandissima parte, e quindi hanno creato letteralmente, scavando sabbia dal fondale e utilizzandola per costruire l'isola, un'isola che è fatta più di spazzatura che di sabbia in realtà. Ed è un'isola dove, dato che non sanno cosa fare di questa spazzatura che si riversa in acqua in continuazione, danno fuoco. E sono trent'anni che quella fiamma è accesa. Infatti io da qui, da questa isola molto bella in cui ero, quando vado sul retto di quest'isola trovo persone che pescano direttamente con le lenze nell'acqua, nella stessa acqua dove a pochi, a nemmeno un chilometro, forse poco più, c'è questa isola di spazzatura. E questo è, diciamo, quello che arriva, una delle tante navi che portano la spazzatura in quell'isola. Perciò io arrivo alle Maldive, vedo tutta questa cosa, capisco che c'è un problema, ma c'è anche una difficoltà per me, occidentale, di vedere questo problema se non dopo un'attenta osservazione o aver parlato con le persone che vivono lì, ma mi rendo anche conto che le persone con cui parlo hanno una serie di reazioni a quello che sta succedendo, perché si rendono conto di vivere in un posto che sta per sparire, perché ogni volta che c'è uno tsunami, per dire, o comunque un uragano, ci sono isole che spariscono, letteralmente. Però mi rendo conto che le loro reazioni a questa cosa comprendono qualunque tipo di sentimento, l'indignazione, la frustrazione, la rabbia, lo sconforto, ma non la paura, se non una paura razionale. E allora decido di mettermi a studiare un po' questa cosa, ed è di questo che parleremo oggi. Ovvero che noi, per quanto ci piaccia pensare di essere forti e proattivi e tenaci, siamo di fatto, proprio noi come specie essere umano, una stirpe di fifoni. E se ci pensiamo, e voi lo sapete perché lo so che questi argomenti rispetto a quando io avevo la vostra età li studiate di più, sono almeno, sono più di dieci anni che, come dicevo, le ricadute del cambiamento climatico sono visibili e tracciabili. E se il trend non cambia, questo mondo diventerà veramente poco vivibile di qui a qualche decina d'anni. Allora, però conosciamo la minaccia che ci attende. Soprattutto abbiamo scienziati che passano la vita a studiare queste cose e che dagli anni Ottanta azzeccano le previsioni. Quando vi dicono che gli scienziati sono rimasti spiazzati, sono tutte balle. Perché la realtà è che se andate a vedere i grafici di proiezione, il famoso bastone da hockey delle emissioni, dell'aumento di temperatura, quelli negli anni Ottanta sono praticamente sovrapponibili a quello che sta succedendo. E allora, noi sappiamo tutte queste cose, però questo problema non è in cima alle nostre preoccupazioni, soprattutto non è in cima alle preoccupazioni dei nostri politici o comunque delle persone che potrebbero fare qualcosa per cambiarlo. Perché? Allora, ci sono naturalmente ragioni di tipo politico, economico, culturale, va bene, però secondo me, andando a vedere proprio nella testa di ogni singolo, c'è una questione che ha a che fare con il nostro modo di vedere il mondo. Il mio libro alla fine parla di questo, c'è tutto il mio reportage, ma anche inframmezzato da ragionamenti su come funziona il nostro cervello e su come noi vediamo il mondo. Allora, la colpa è dell'evoluzione. Noi, e questo è il caso di ricordarselo, siamo degli animali. E non lo dico in maniera denigratoria. Siamo degli animali come tutti gli altri animali, ci siamo evoluti e le caratteristiche che ci contraddistinguono, sia a livello fenotipico, quindi del corpo che abbiamo, sia a livello di come funziona il nostro cervello, sono in gran parte cose che hanno aiutato i nostri antenati a sopravvivere in un mondo molto diverso da questo. Siamo i discendenti di chi sapeva inventare, questo lo sappiamo, a scuola viene insegnato a più riprese questa cosa, ma siamo anche i discendenti di chi sapeva scappare e in particolare di chi scappava di fronte a minacce che erano immediate e immediatamente inquadrabili e percepibili come qualcosa che ci riguardava in prima persona. Quindi, non so, un cespuglio si muove nella giungla, il nostro cervello automaticamente pensa a una bestia feroce che ci può attaccare e noi scappiamo. Chi non scappava moriva e non portava il suo patrimonio genetico avanti, quindi noi siamo i discendenti di chi scappava o di chi sapeva capire quando era il caso di scappare. Questo ha fatto sì che l'essere umano abbia la tendenza ad avere paura di tantissime cose, infatti oggi noi se ci pensate abbiamo paura di tantissime cose, a volte anche di cose che non esistono. Abbiamo un sistema di proiezione mentale per cui noi continuiamo a pensare al futuro in continuazione, pensiamo al futuro tre volte più di quanto pensiamo al passato durante una giornata senza rendercene conto perché continuiamo ad anticipare le cose brutte che potrebbero succedere o comunque a metterci nella condizione di preoccuparci. Ma non siamo in grado di sviluppare una paura viscerale, cioè quella paura che ti fa dire io non posso fare nient'altro che occuparmi di questa cosa, che è quella magari che ti viene quando il medico ti diagnostica, spero non vi succederà mai, un brutto male. La prima cosa che fate è dire ok, io cosa devo fare? Non pensate a nient'altro, tutto il resto diventa secondario. Per quanto riguarda la crisi climatica, il cambiamento climatico non è così. Per quanto possiamo anche le persone che dicono è la cosa più importante della mia vita, in realtà a livello viscera è una paura razionale, ma a livello viscerale non siamo fatti in modo da prendere questa minaccia come qualcosa di fondamentale e che sia fondamentale affrontare subito. Allora prendiamo, giusto per spiegare come funziona il nostro sistema di paura, prendiamo una scena abbastanza familiare. Allora c'è un uomo o una donna che sta per attraversare la strada. Allora è uscito dal lavoro da poco, sta pensando appunto, per dato che pensa sempre al futuro, ha delle sue preoccupazioni, insomma è distratto. Appena scende dal marciapiede sente, capisce qualcosa, lo avverte che sta arrivando un autobus a tutta velocità, può essere uno spostamento d'aria, uno stridore di pneumatici, un rumore, comunque il risultato è che salta subito indietro sul marciapiede. L'autobus sfreccia a tutta velocità, appena realizza quello che ha rischiato con quell'autobus viene pervaso dalla paura. Allora fate attenzione ai tempi. Lui non ha visto l'autobus, ha provato paura e quindi è scappato sul marciapiede. Lui è scappato sul marciapiede, poi si è reso conto della situazione e in quel punto ha avuto paura. Questo è un modo un po' semplicistico di inquadrare la questione, però il nostro cervello funziona così e ci sono gli psicologi che hanno affrontato questa cosa. Se voi andate nelle facoltà di psicologia invece si racconta un altro aneddoto o comunque un modo di dire che noi non scappiamo dall'orso perché abbiamo paura, ma abbiamo paura perché scappiamo dall'orso. E questo perché noi abbiamo due sistemi di, diciamo, anche qui sto semplificando ma è un modo per capire come funziona il nostro cervello, è come se avessimo due cervelli diversi che cooperano. Uno che è l'eredità del nostro cervello, il cosiddetto cervello rettile, quindi l'eredità del cervello che abbiamo preso in eredità dagli animali e quindi è un cervello che reagisce in maniera spontanea, istintiva. E poi abbiamo un cervello razionale, corticale, che è quello che si è voluto e che ci rende, diciamo, diversi dagli altri animali, che invece si occupa di lavorare più lentamente e di mettere insieme dei dati, di ragionare su quello che sta succedendo e di produrre delle emozioni di conseguenza. Quindi quello che succede quando c'è l'autobus è che il cervello rettile ci fa scappare e poi il cervello razionale ci fa rendere conto di cosa abbiamo rischiato. Quindi dicevo, la prima è una risposta inconscia e innata che condividiamo con gli altri animali. La seconda è una rielaborazione emotiva, in gran parte conscia, legata alla memoria di episodi vissuti in passato e che invece è prettamente umana. Il cambiamento climatico non va a attivare il primo cervello, va a attivare il secondo cervello. E questo è il motivo per cui ci possono dare tutti i dati possibili, tutte le prove possibili, ci possono far vedere anche che cosa sta succedendo. Noi continueremo, finché questa cosa non ci tocca in prima persona, a noi o ai nostri familiari, continueremo a vedere questa cosa come qualcosa che attiva il nostro cervello ma non attiva il nostro cuore. Secondo lo psicologo sociale Daniel Gilbert, per riassumere tutta questa questione, l'evoluzione ci ha preparato a rispondere a quattro tipologie di stimolo che sono riassumibili sotto l'acronimo P-A-I-N, o pain, se volete dirla all'americana, che sta per personal, nel senso che noi reagiamo in una minaccia in maniera viscerale quando la vediamo rivolta a noi o qualcuno che abbiamo caro. Abrupt, quindi immediata, quindi quando è qualcosa che non è distribuita nello spazio e nel tempo, non ha un decorso stiracchiato come riscaldamento globale, ma è una cosa che avviene di colpo. immoral, nel senso che reagiamo anche quando vediamo nella minaccia qualcosa che ha a che fare e che va a mettere in discussione i nostri cardini morali. Sempre Gilbert in un'intervista diceva che se il cambiamento climatico fosse causato da persone che ammazzano Labrador l'avremmo già risolto. E now, ovvero ora, quindi qualcosa che riguarda l'immediato, l'immediato momento in cui viviamo. Il cambiamento climatico non tocca nessuno di questi tasti purtroppo, perché non è personale nel senso che è così distribuito che prima che la ricaduta sia personale siamo già in una situazione irreparabile. Non è immediato nel senso che è una cosa che è iniziata diversi decenni fa e continuerà anche dopo il tempo presente. Non è immediatamente percepibile come immorale perché è la realtà che noi stessi siamo causa del cambiamento climatico. Il sistema in cui viviamo in particolare, però il sistema in cui viviamo è un sistema che dà da mangiare e da vivere a noi, quindi è difficile vederlo come qualcosa di immorale e non è un problema immediato presente, non è una malattia che ci hanno diagnosticato, non è un virus che sta incasinando il paese in questo momento, ma è qualcosa appunto che è distribuito nel tempo. Allora, ci sono domande? È tutto chiaro? Sto andando troppo veloce? Ho un accento troppo lombardo? Ok, lo so, è Brianzolo addirittura, pensate. Un'altra tappa, un altro posto in cui sono andato, un'altra meta da cartolina è Miami Beach. Ora, Miami Beach è importante perché, l'ho scelta perché, perché Miami Beach anche lì noi abbiamo delle immagini di questo posto mentali molto solide dovute ai videoclip che abbiamo visto, ai film che abbiamo visto, alle canzoni che ascoltiamo e che ci parlano di una certa Miami Beach e quindi insomma andare a Miami Beach significa attivare questa serie di immagini mentali. Miami Beach è una delle città americane, è la seconda città americana più a rischio per colpa dell'inalzamento delle acque e questo per una serie di motivi tra cui il fatto che sia Miami Beach che Miami, che attenzione sono due città diverse, Miami Beach occupa quell'isola di barriera che sta davanti a Miami che invece è nel continente e poggiano su un terreno calcareo molto poroso e voi immaginatevi un terreno così bucherellato che l'acqua ci passa attraverso. Ecco, queste città poggiano su quello e cosa succede? Che quando c'è l'alta marea, quando ci sono le mareggiate, anche quando non piove, durante le giornate di sole ci sono tutte le, tutta la costa che si inonda ma anche dentro all'interno di Miami, all'interno di Miami Beach i bacini idrici tracimano e quindi si ritrovano con le strade allagate. In questa immagine, sempre perché quello di cui stiamo parlando è la necessità di scardinare degli automatismi del nostro sguardo, se voi guardate questa immagine siamo in uno dei quartieri più frequentati nella parte interna di Miami Beach e vedete che c'è un locale ribassato, giusto? Rispetto al livello della strada. È quello che vedete, è quello che vedo anch'io in questa immagine, però la realtà è il contrario. Il livello base di Miami Beach è quello del locale. È la strada che è stata rialzata a partire dal 2013 perché si continuava ad allagare. A Miami Beach hanno già sollevato le strade di un metro perché si allagano in continuazione per colpa dell'innalzamento delle acque. Un'altra cosa che non mi aspettavo di trovare a Miami Beach è questo, e non è una parte sfigata di Miami Beach, scusate il francesismo. Questa è davanti all'albergo in cui stavo. Io ho avuto la fortuna di fare questo viaggio per conto di Esquire, rivista che magari conoscete, e che mi ha pagato l'albergo. L'albergo era un albergo di lusso, tanto che io mi sentivo abbastanza in difficoltà. E appena arrivato, il pomeriggio in cui sono arrivato mi sono detto, beh, senti allora, io tutti gli appuntamenti ce li ho a partire da domani. Faccio il vero italiano, vado al mare. Mentre vado al mare mi rendo conto che nella piscina dell'albergo è pieno di gente, tantissima gente, non c'è posto per sedersi. E dico, ma siamo a Miami Beach, fa caldo, è estate, perché la gente sta in piscina? Arrivo in spiaggia e trovo questo. Questo è un'invasione, un'infestazione di sargasso. Il sargasso è un'alga infestante e soprattutto molto puzzolente che prolifera in certe condizioni. Quindi in condizioni di acque più calde, ma anche in condizioni di zone marine dove vengono riversati tanti nutrienti per colpa degli scarichi magari delle aziende o per colpa del fatto che un fiume come il Mississippi che arriva nel Golfo del Messico è stato incanalato in modo che trasporti tutto il sedimento e tutti i nutrienti che arrivano, tutto l'azoto che arriva dal resto del continente all'interno del Golfo del Messico. Il Golfo del Messico è un banchetto per questa alga che prolifera in questo modo. Quando io sono arrivato in spiaggia non c'era nessuno, vedete? La gente inizia ad essere un po' più in là, ma qui non c'era nessuno perché io ho fatto sta foto e poi sono scappato perché mi lacrimavano gli occhi. C'erano famiglie che annullavano le loro prenotazioni nell'albergo perché dicevano noi siamo venuti qua per stare in spiaggia, in spiaggia non si può stare. Quindi un altro modo in cui ho scardinato la mia immagine mentale di Miami Beach. Questa è invece una zona di Miami che vi mostro soltanto per accennare a una cosa importante nell'inquadrare il problema climatico, ovvero che la questione climatica tocca tutti i distretti della nostra esistenza, compresi quelli che non siamo abituati a collegare alla questione climatica, tra cui la gentrificazione. Chi è che non ha mai sentito parlare di gentrificazione qui? Qualcuno? Quindi c'è qualcuno che ha sentito parlare di gentrificazione? Molto bene. La gentrificazione, per farla breve, ma io non so se a Padova c'è un fenomeno del genere, a Milano tantissimo, a Londra ancora di più, è quando dei quartieri popolari, quindi a basso reddito, vengono letteralmente presi d'assalto da investitori o comunque da nuovi inquilini più benestanti che fanno alzare il livello degli affitti, tanto che molte persone che hanno sempre vissuto lì non possono più permettersi di vivere lì. Quindi sono dei quartieri che vengono trasformati in maniera anche molto rapida dall'arrivo di nuove persone. E uno diceva cosa c'entra questo col cambiamento climatico? C'entra perché Miami, come avete visto, Miami Beach è sempre meno vivibile. Per quanto possono avere tanti soldi per mettersi al riparo da quello che sta succedendo, è come le Maldive. A un certo punto quel posto finirà sott'acqua se le cose continuano così. E quindi c'è chi, furbo, sta comprando case e proprietà in questi quartieri di Miami. Questo è Liberty City. se qualcuno di voi ha visto Moonlight è dove è ambientato Moonlight. E Liberty City è un quartiere storicamente afroamericano. Il 90 per cento delle persone che abitano lì sono afroamericane e la maggior parte delle persone che abitano lì sono in affitto. Ed è uno dei quartieri più elevati. Questo cosa vuol dire? Che agli occhi di chi se ne vuole andare da Miami Beach o di chi vuole investire e farci soldi, sono i posti in cui ha senso investire per il futuro, perché al futuro questo posto sarà all'asciutto. Adesso è una topaia, letteralmente, nel senso che ci sono persone che per paura di essere cacciate dal posto in cui stanno non raccontano al proprio padrone di casa delle situazioni assurde, tipo le acque nere che escono dalla vasca da bagno, montagne di scarafaggi morti negli angoli della casa, perché hanno paura che poi magari il padrone di casa interviene, però poi alza l'affitto a quel punto lì, non possono più permetterselo. Ci sono tante persone di Miami che finiscono per strada e associazioni con cui sono andato a parlare, di cui parlo nel libro, che si stanno occupando di queste cose. Questo però per dare sempre anche l'idea che il motivo per cui non abbiamo paura così tanto di quello che sta succedendo è perché non ci rendiamo conto di quanti, di quante questioni stia toccando, anche perché non ci sono questioni che possono avere solo l'etichetta climatica. Un'altra è la migrazione. Le migrazioni, siamo abituati a imputare la migrazione a una serie di problematiche. La questione climatica va a peggiorare quelle problematiche, come va a peggiorarne tantissime. La crisi climatica non crea problemi nuovi di solito, va a esacerbare quelli esistenti. E questo rende tutto ancora più difficile perché noi siamo abituati a vedere un problema e una soluzione, mentre qui questo problema li va a toccare tutti. Allora, continuiamo a vedere perché il nostro cervello continua a dirci, sì però tranquillo, goditi la tua vita, cioè perché ti devi rovinare la vita pensando che il mondo sta finendo. E uno dei motivi per cui siamo così bravi a spaparanzarci e osservare il mondo che va in fiamme è legato a una serie di pregiudizi cognitivi che abbiamo, tra cui il cosiddetto bias di conferma, pregiudizio di conferma. E per spiegarvi di cosa parlo vi racconto un esperimento molto interessante. Allora, nel 68 questi due psicologi sociali americani fanno un esperimento strano, ovvero prendono una stanza, che è quella lì che vedete, una serie di studenti che erano i soggetti dell'esperimento e in alcuni casi, vedi, condition one, li fanno sedere in questa stanza da soli a compilare un questionario. In altri casi li mettono nella stessa stanza con altre persone, che in realtà sono attori, istruiti a non fare nulla, a non reagire, qualunque cosa succeda, a rimanere impassibili. Allora, cosa succede a un certo punto in questa stanza? Succede che da sotto la porta, o in altri casi dal bocchettone dell'aria condizionata, inizia a uscire, c'è il video su YouTube se lo cercate, inizia a uscire un fumo molto denso. Allora, di fronte a una cosa così in attesa, le reazioni dei due gruppi furono molto diverse, perché gli studenti che erano in una stanza da sola, da soli, si alzarono subito, quindi uno studente in una stanza da solo sta compilando un questionario, vede quello che sta succedendo, si alza, va a vedere cosa sia e poi dopo va a cercare aiuto, immediatamente. Invece quelli circondati da persone che non facevano nulla, si guardavano intorno, guardavano la reazione delle altre persone e dato che queste non facevano nulla, loro rimanevano seduti. Qua ci sono un po' di immagini prese da quel video, questa è una delle studentesse che è andata subito a vedere che cosa sta succedendo e questa è la seconda situazione dove un'altra studentessa si ritrova circondata da persone che invece se ne sbattono sostanzialmente di questo fumo, lei nota il fumo, però come vedete lì, passano 20 minuti, il fumo sta ancora uscendo dalla porta ma lei rimane seduta. Cosa ci dice questo esperimento? Che per quanto ci piace pensare di essere persone attive, virtuose, in realtà siamo dei panchinari, cioè siamo persone che tendenzialmente stanno sedute, soprattutto se i nostri simili fanno questa cosa. Noi prima di reagire in situazioni di pericolo, se c'è qualcuno insieme a noi guardiamo cosa fanno gli altri e se ci pensate questa cosa qui è successa anche durante, o meglio, prima della pandemia, quando ancora si parlava di virus cinese, quel periodo, quella terra di nessuno dove non si capiva cosa stesse succedendo, quando in realtà si capiva cosa stava succedendo perché in altre nazioni avevano già blindato e chiuso tutto, noi qui invece, e io me lo ricordo perché facevo parte di quelle persone che dicevano ma no ma figurati sarà un'altra mucca pazza, sarà un'altra aviaria, sarà un'altra di quelle situazioni dove si gonfia qualcosa che in realtà non è così pericolosa. Abbiamo vissuto in questa bolla finché non abbiamo iniziato a vedere che le persone intorno a noi morivano e che le terapie intensive si riempivano e a quel punto da un giorno all'altro, non so se vi ricordate, abbiamo iniziato a mettere le mascherine e a non uscire più di casa e non c'è stata tanta, non c'è stato tanto tempo per decidere questa cosa ma l'abbiamo accettata perché abbiamo cambiato sguardo immediatamente. Allora un altro dei motivi, questa è New Orleans, magari qualcuno c'è stato, magari qualcuno ha visto le immagini del quartiere francese che è quello più iconico di New Orleans con tutte queste tettoie e il motivo per cui adesso andiamo a New Orleans è perché un'altra delle ragioni per cui noi non agiamo o comunque ci va bene che i nostri governi non agiscono in maniera tempestiva è legato alla nostra illusione di controllo. Noi siamo convinti di poter esercitare un controllo maggiore su quello che ci succede sulla nostra vita molto maggiore di quello che in realtà abbiamo. E questa cosa è stata dimostrata anche in questo caso con alcuni esperimenti, il più semplice dei quali è quell'esperimento in cui hanno fatto lanciare dei dadi a dei soggetti, a dei partecipanti e hanno visto che le persone tendevano a lanciare il dado più, se li veniva chiesto di ottenere un certo numero, tendevano a lanciare il dado con maggiore forza. In un altro esperimento hanno visto che la percentuale di persone che si dichiarava sicura di poter, o comunque che scommetteva su una giocata la slot machine, aumentava nel caso in cui la slot machine avesse la leva piuttosto che il bottone. Perché questo atto di muovere la leva dava l'impressione di avere più controllo su qualcosa che in realtà non ti dà nessun tipo di controllo, perché è totalmente random il funzionamento di una slot machine. Ma questa nostra illusione di controllo fa sì che perché noi siamo così. Non siamo così perché siamo una specie di imbecilli, ma perché serviva i nostri antenati per controbilanciare un sistema di paura che, come abbiamo detto, era molto attivo. Noi dovevamo essere sempre allerta, capire se ci potessero essere minacce immediate da cui mettersi al riparo. Il problema è che se tu hai un dispositivo mentale che funziona così, hai anche bisogno di un dispositivo mentale che controbilanci questa cosa, perché altrimenti vivi paralizzato dalla paura sempre, perché di potenziali minacce ce ne sono tantissime. Tanto è vero, e siete degli adolescenti, quindi sarà così anche per voi, che si ha paura di cose che poi in realtà non succedono spesso e volentieri. E quindi l'illusione di controllo era, diciamo, il contrappeso che ci faceva dire sì ma tranquillo che comunque puoi controllare la situazione, anche quando la situazione non la potevi controllare. Questo ha fatto sì che noi sviluppassimo un certo rapporto con l'ambiente in cui viviamo, che è un rapporto appunto di controllo. Controllo, attenzione. Controllo è una parola che può essere, può avere due accezioni, se ci pensate. Può avere un'accezione attiva, io esercito un controllo su qualcosa, o un'accezione passiva, io controllo qualcosa, osservo, sorveglio. Le popolazioni indigene adottano una disposizione al controllo passivo. Loro da sempre, culturalmente, si guardano intorno, controllano quello che sta succedendo nell'ambiente attorno a loro, incamerano i segnali e si comportano di conseguenza. E guarda caso, non costruiscono mai sulle coste o in riva i fiumi, a differenza invece delle popolazioni occidentali che in riva a un fiume come il Mississippi, che è il fiume, uno dei fiumi più tortuosi e arrabbiati del mondo, hanno costruito una delle città più importanti degli Stati Uniti, che è New Orleans. L'hanno costruita i francesi in realtà, però poi gli americani ci hanno messo il peso della 90. Allora, perché siamo venuti a New Orleans e perché cosa c'entra questo con l'illusione di controllo? Prima voglio farvi vedere due immagini di New Orleans. Questa, ma anche se non è particolarmente bella, perché quel giorno non era esattamente una bella giornata, però questa è la New Orleans da cartolina, in qualche senso, nel senso che c'è questo quartiere francese, ci sono tutti i bar dove si suona jazz, dove si mangia la cucina cajun, eccetera. E questo invece è il distretto 9, che è il posto che è stato spazzato via dall'uragano Katrina. E quella che vedete lì, quella casa costruita col container, la costruita Brad Pitt, che ci crediate o no? Perché a un certo punto Brad Pitt ha deciso che doveva ricostruire questo quartiere. Non gli è riuscito tanto bene, però comunque ci ha provato. E queste sono macerie ancora di quello che è successo quando c'è stato Catrina. Allora, il motivo per cui Catrina ha distrutto una parte di New Orleans, perché non ha distrutto tutta New Orleans. Il quartiere francese dopo un paio di settimane era posto, mentre il distretto 9 tuttora è una sorta di campo santo a cielo aperto. E questo è successo perché voi immaginate di costruire una città in braccio a un fiume che però nella sua storia ha cambiato corso in continuazione. Il Mississippi, immaginatevelo come un serpente d'acqua, che ogni qualche secolo cambia corso. E cambiando corso sparge sedimento ovunque. La Louisiana è uno stato che nasce da quello spargimento di sedimento. Se voi prendete non soltanto un fiume, ma un costruttore di terre come il Mississippi e lo imbrigliate dentro degli argini altissimi, perché essendo molto tortuoso, devono essere molto alti questi argini, quello che succede è che tutta la terra che prima veniva alimentata da questo sedimento inizia a sprofondare, inizia ad appiattirsi. E questa foto io l'ho scattata dopo essermi arrampicato su un argine di 6 metri. E come vedete il livello dell'acqua è poco sotto dove sto io. Perché 6 metri? Perché New Orleans sta 4 metri sotto il livello del mare. E sta 4 metri sotto il livello del mare proprio perché il terreno si sta compattando. Come sempre non è soltanto una questione di eventi naturali, ma c'è l'intervento dell'uomo. Sia perché ha imbrigliato il Mississippi, sia perché poi gli americani hanno estratto un sacco di gas naturale e di idrocarburi da sotto il terreno andando ancora di più a compattare questa situazione. Poi vi farò vedere anche delle immagini che vi fanno vedere come ancora più sotto di New Orleans la Louisiana stia scomparendo letteralmente nell'oceano e nel Golfo del Messico al ritmo di due campi da calcio ogni ora e mezza. Lascio un po' di tempo per incamerare questa nozione. In una situazione del genere quello che non ci hanno raccontato bene è che non è che Catrina è arrivata e ha spazzato via una parte di New Orleans. Catrina è arrivata, ha sostanzialmente sfiorato New Orleans e il giorno dopo l'ondata di marea è stata incanalata dentro questi argini, questo sistema di canali e di argini artificiali che ha rotto, quindi ha creato una pressione enorme e li ha rotti proprio in corrispondenza di quei quartieri. Quindi quando dicono che Catrina è un disastro umano e non un disastro naturale parlando di questo, del fatto che se non ci fossero stati quegli argini probabilmente ci sarebbero stati molto meno danni. Avete presente la frase qui una volta era tutta campagna? Quando sono stato sulle coste della Louisiana un ragazzo che ho trovato a pescare qui mi diceva, mio zio mi diceva che 40 anni fa qua era tutta campagna, nel senso che come vi dicevo la Louisiana sta sprofondando e la cosa assurda è che ci sono tutte queste case, cioè o la gente se ne va oppure solleva la propria casa sui trampoli, tipo sei metri di palizzate. Questa è una strada che porta in uno dei posti più estremi, che si chiama Hille de Jean Charles, che negli ultimi 50 anni ha perso il 90% della terra a disposizione. Questa strada non sempre, io ho avuto fortuna quel giorno, però non sempre è percorribile perché a volte è coperta dall'acqua e là in fondo c'è una città dove alcune persone ancora ci vivono e appena superi quella strada trovi questa situazione, questa foto che presa da solo è molto strana perché se ci pensate l'acqua non c'è qui, però noi abbiamo una casa sulle palizzate. Questo un po' perché l'acqua arriva ogni tanto e un po' perché fra un po' l'unico modo di arrivare a quella casa lì sarà attraverso l'acqua. E qua sempre andando lungo il corso del Mississippi facevo le foto dal finestrino e vedevo queste situazioni, quindi alberi cresciuti quando l'acqua non c'era che adesso sono, diciamo, affondano nell'acqua, alcuni muoiono anche perché l'acqua non è esattamente dolce e anche qui ogni volta a guzzare la vista fa sì che si vedano storie diverse e se voi guzzate la vista trovate almeno 10 uccelli qui dentro perché poi quello che succede in queste situazioni come l'avete visto anche durante il lockdown è che gli animali tornano ad occupare gli spazi. E anche qui vedete, no? Dei pennuti che si guardano la jeep che attraversa l'acqua. Queste sono altre immagini di quei posti che vi faccio vedere giusto per darvi nuove cartoline con cui nutrire le vostre immagini mentali e questa invece è l'ultima immagine che ho scattato in Louisiana perché a questo punto io che sarei dovuto andare là, in fondo, mi sono dovuto fermare. Cioè sulla mappa di Google c'era una città oltre quell'acqua ma in quella particolare giornata io non ci potevo arrivare e quello è stata forse la cosa più... quello mi ha fatto paura perché ad un tratto era una situazione che io vedevo coi miei occhi e vivevo sulla mia pelle. Allora, quanto tempo abbiamo ancora? chiedo alla regia. Che ore sono? Sono le 10.10. Siete stanchi? Annoiati? Avete domande? Ok. Allora, allora andiamo avanti perché quando prima dicevo che aguzzando la vista emergono storie diverse, volevo introdurre una questione molto importante, ovvero che il nostro sguardo sul mondo ormai l'avrete capito che è molto limitato, sia dal punto di vista percettivo perché comunque noi siamo in grado di intercettare soltanto alcune frequenze visive e sonore, ma anche dal punto di vista cognitivo perché noi tendiamo a eliminare delle parti di realtà che non fanno parte dell'immagine mentale che abbiamo, noi abbiamo anche uno sguardo sulla realtà di tipo narrativo. Cosa intendo con questo? Intendo dire che quando noi gettiamo il nostro sguardo fuori da una finestra, ad esempio, su una situazione non vediamo tutto. Cioè io in questo momento non vedo tutti. Non vedo le singole persone, i singoli abiti, ci sono tantissimi dettagli, pur in una stanza come questa dove di fatto ci sono solo sedie e persone, ci sono troppi dettagli perché io posso avere uno sguardo complessivo della situazione. Quindi il mio sguardo seguirà una direzione e seguirà una direzione che ha a che fare con il tipo di storia che io mi sto raccontando. La storia che mi sto raccontando è che c'è una platea di studenti che sta ascoltando una presentazione. Il mio sguardo sarà indirizzato da queste coordinate. Adesso faccio una pausa in questo discorso per parlarvi di un altro esperimento, ma poi ci torneremo perché questo discorso delle storie e dello sguardo narrativo è fondamentale. Allora, un altro esperimento, e questo nelle facoltà di psicologia lo fanno vedere sempre, è chiamato l'esperimento del gorilla invisibile. Anche questo lo trovate su YouTube. Il punto qual è? Che mo' io ve lo sto rovinando. Quindi quello che potete fare, o vi tappate le orecchie adesso, anzi no, vi ho già detto gorilla invisibile, è già rovinato, però potete andare dai vostri genitori, dai vostri amici e fare questo esperimento con loro, basta che andiate su YouTube a cercare Invisible Gorilla Experiment. Ma in cosa consisteva questo esperimento? In pratica, alla base dell'esperimento c'è un video dove ci sono due squadre, una con la maglia nera e una con la maglia bianca, che si passano due palloni da basket. I bianchi se li passano tra bianchi e i neri se li passano tra neri. Allora, all'inizio del video una scritta ti dice, tu, l'esperimento consiste in questo, tu devi contare il numero di passaggi della squadra bianca. Adesso mi ricordo se è bianco o nero, ma mi sa bianca. E quindi quando poi parte il video, il tuo sguardo segue quella storia lì, segue quelle coordinate lì e tutto il resto lo cancella. Il risultato è che più della metà dei partecipanti si perdevano una cosa impossibile da perdersi, ovvero il fatto che a metà del video c'era un uomo vestito da gorilla che entrava all'interno dell'inquadratura, faceva così, si batteva il petto e usciva dall'inquadratura. Metà delle persone non lo vedeva. Difficile non vederlo, perché attenzione, qui abbiamo soltanto l'immagine, ma se voi stesse seguendo i passaggi e anche un po' stimolati dal punto di vista agonistico, competitivo, voleste riuscire a indovinare il numero di passaggi giusti che tra parentesi 15, rischiate di perdere il gorilla. Quindi il loro sguardo era concentrato su un certo parametro e questo portava a mettere in secondo piano tutto il resto. E qui vi voglio citare una frase di John Berger che diceva in ogni atto d'osservazione c'è un'aspettativa di significato e in effetti basta guardare fuori da una finestra per rendersene conto, perché come vi dicevo qui già c'è una, per me che vi sto guardando c'è una quantità di dettagli se mi ci soffermo sconfinata, ma se guardate fuori dalla finestra di casa, non so magari vivete in un condominio con un cortile, voi guardate dalla finestra di casa, proviamo a immaginarci, io mi affaccio alla finestra di casa dei miei genitori che affaccia su un cortile dove c'è un prato, degli alberi, dei bambini, le altre parti del condominio con gli altri balconi e quindi c'è tantissima roba da vedere, ma io vedo che i bambini stanno giocando a calcio, allora il mio sguardo inizia a seguire quella direzione, quindi vedo i bambini che giocano a calcio, allora inizio a concentrarmi su quanto siano sporche le ginocchia i vestiti di questi bambini, poi noto subito dopo che c'è una grossa pozza di fango magari tra gli alberi che fanno da palo, poi dato che ho guardato la pozza di fango ai bambini sporchi mi viene naturale andare a cercare i genitori che sono affacciati alla finestra e vedere se sono arrabbiati se li rimproverano, se sono preoccupati e nel frattempo mi perdo tantissime altre cose, mi perdo che tipo di albero c'è, mi perdo cosa c'è oltre quel cortile, mi perdo tantissime cose, comprese anche cose che hanno a che fare con quello che sto guardando, i bambini che sto guardando, ma che non hanno a che fare con la partita di pallone. Quindi ogni sguardo ha una direzione e la direzione spesso segue una storia che noi ci raccontiamo. All'inizio ho scelto un esergo per quel libro che è una frase di Goethe, una frase di Goethe per me bellissima, che dice noi vediamo solo ciò di cui andiamo in cerca e andiamo in cerca solo di ciò che conosciamo. È una frase secondo me molto importante perché ci racconta tutto questo problema di cui stiamo parlando adesso. Cioè noi osserviamo il mondo come ci hanno insegnato ad osservarlo, come siamo abituati a vederlo. Nel momento in cui questo mondo cambia noi facciamo fatica a registrare questo cambiamento soprattutto se questo cambiamento non è macroscopico o non è singolo e quindi il cambiamento climatico ricade proprio in questa trappola. E quindi come vi dicevo a qualunque angolo di mondo osserviamo cercheremo di trovarci un percorso logico e possibilmente una storia. Perché adesso vi faccio vedere Venezia? Perché quello che mi è successo, e io già stavo scrivendo questo libro, già stavo facendo questi ragionamenti, già avevo scritto di tutte queste cose, ma io di fatto sono stato la cavia di questo esperimento, nel senso che io ho preso e sono andato a vedere questi posti, ma non come quello che già li conosceva e vi li voleva raccontare, ma come quello che dice ok io ho delle immagini mentali di questi posti, andiamo a vedere come sono realmente. E tra tutti i posti io a Venezia non ci volevo andare perché c'ero già stato troppe volte e forse perché l'immagine mentale che avevo di Venezia era troppo potente per sostituirla. Poi ho conosciuto un professore d'architettura catalano che si occupa di tutela del patrimonio e del rapporto tra architettura e ambiente e sono andato a Venezia con lui. Poi ho incontrato anche altri esperti che mi hanno raccontato del MOSE, di altre situazioni di cui adesso non vi sto a parlare. Però la cosa interessante di quel capitolo è che io arrivo a Venezia, tra l'altro, cos'era, ottobre dell'anno scorso, no, settembre dell'anno scorso, quindi ancora in quella terra di nessuno dove pochi andavano in vacanza, quindi era un giovedì, Venezia era quasi vuota. Quindi già quello era un bello scarto rispetto a come ero abituato a vederla. Ma andare a Venezia con una persona che ti racconta la storia di Venezia e soprattutto ti racconta perché certe cose siano nel posto in cui sono e quindi non ti fa da guida turistica, ma ti fa da guida architettonica. Da guida architettonica e urbanistica, quindi ti fa capire come questa città è nata e come cerca di adattarsi a un mondo in cambiamento, allora io ho visto una Venezia diversa. La storia di Venezia che avevo nella testa, che era una storia turistica, è stata sostituita da un altro tipo di storia. Lui mi ha portato in questo posto che si chiama Fondazione Querini Stampaglia, che non so se qualcuno c'è stato, è un posto dove adesso c'è un museo, però è un edificio del Cinquecento ristrutturato da Carlo Scarpa, che è stato uno dei più grandi e visionari architetti italiani e quello che lui ha fatto è dire che Venezia non può continuare a far finta che l'acqua non ci sia, non può continuare a far finta che l'acqua rimarrà dov'è e quindi ha preso il piano terra, l'ha tolto e l'ha ricostruito in modo che il canale diventasse parte dell'edificio, quindi voi avete questo canale di Venezia che entra proprio all'interno dell'edificio, si fa il giro del cortile e quella è stata una cosa che simbolicamente mi ha aiutato anche a capire il problema che noi abbiamo nell'affrontare Venezia, perché a Venezia tutti, se vai a parlare con esperti di cambiamento climatico, ti dicono Venezia è il gioiello che noi dobbiamo salvare. Allora se tu devi salvare un gioiello lo metti in una teca di vetro, no? O comunque in un cassaforte e che è quello che stanno cercando di fare con Venezia, solo che non puoi mettere una città in una teca di vetro e quindi Venezia rischia di essere condannata proprio perché non abbiamo il coraggio di cambiare sguardo, di cambiare narrazione e di modificarla un po'. In passato invece quando un monumento non era più in armonia con, o comunque un edificio in armonia con l'ambiente in cui si trovava incastonato, veniva modificato, è successo in tantissimi casi, noi tendiamo ad avere una visione conservativa del patrimonio. Ma senza perdere troppo tempo su questo discorso che rischia di essere troppo ampio, torniamo alla questione delle storie e qua ho messo il mio libro non tanto per farmi bello ma perché ha senso, poi vedrete alla fine il discorso. Riassumendo, se noi fatichiamo a inquadrare il cambiamento climatico nella sua totalità è perché, come dicevo, il nostro sguardo è appesantito, viziato da limiti biologici, cognitivi e culturali. E per quanto ci sforziamo di superare questi limiti, il problema climatico risulterà sempre troppo sfaccettato, interconnesso e distribuito nello spazio e nel tempo per poterlo vedere nella sua interessa. Allora, che cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare è imparare a valorizzare le storie in maniera diversa da come le vediamo oggi. Allora, per fortuna, tra le varie cose che abbiamo preso in eredità dal nostro percorso evolutivo, c'è anche la capacità unica nel mondo animale, fino a prova contraria, di creare e fruire storie. Allora, noi siamo letteralmente dipendenti dalle storie, se ci pensate, nel senso che, a parte che guardiamo un sacco di serie tv, film, spero, libri, ma poi ci raccontiamo storie in continuazione. Quando voi la mattina, durante l'intervallo, raccontate cosa vi è successo il giorno prima con un vostro amico, lo state raccontando in forma di storia, non state consegnando delle informazioni fredde. Al bar con gli amici, quando un rapporto sentimentale diventa importante, cominciamo a chiamarlo storia. Le storie innervano la religione, anche il modo in cui noi viviamo la religione e addirittura lo sport. Tanto è vero che c'è un'epica calcistica, per dire. Addirittura, quando dormiamo, il nostro cervello non riesce a fare a meno delle storie e ce le propina in forma di sogno. Questo perché? Perché le storie sono state fondamentali per la nostra sopravvivenza e per la sopravvivenza dei nostri antenati, perché di fatto erano dei pacchetti che si potevano distribuire anche a persone che non avevano vissuto in prima persona una situazione, ma che potevano, con questo pacchetto di informazioni, ricostruire un mondo narrativo e immergercisi dentro. Se ci pensate, ogni storia presuppone una sorta di immedesimazione. Quindi ogni volta che noi creiamo una storia, quando io scrivo un romanzo, quando voi leggete un libro, noi ricreiamo nella nostra testa, con la nostra immaginazione, un mondo narrativo. I libri sono dei segni su una pagina, cioè chi crea veramente quella storia è il nostro cervello quando la leggiamo. E questo fa sì che invece di consegnarvi delle informazioni io possa consegnarvi un mondo di cui fare esperienza. Che detta così sembra una frase da bacio perugina, però se ci pensate, pensate sempre ai nostri antenati. Un nostro antenato va nella giungla perché non ci sono più bacche, la sto facendo semplice, e quindi va a cercare in un posto nuovo. Mentre va in questo posto nuovo viene aggredito da una bestia feroce, in qualche modo riesce a sopravvivere, torna indietro e ha qualcosa da raccontare. Questa cosa che vi ho detto è lo schema della maggior parte delle storie, delle narrazioni che noi abbiamo. Abbiamo una persona che esce dal suo mondo ordinario, quindi dalla sua zona di comfort, entra in un mondo che non conosce, che lo mette alla prova, ritorna al suo mondo ordinario arricchito di qualcosa, che può essere delle bacche, che può essere una conoscenza. Allora quello che può fare a quel punto è trasferire questa conoscenza come informazione, ovvero guarda che là c'è una bestia feroce e le bacche non so se ci sono, e la persona raccoglie questa informazione e è finita, e magari la scrive. Oppure può raccontare una storia, può spiegare perché fosse andato lì, può spiegare l'ambientazione che c'era, può spiegare in che modo si è ritrovato a fronteggiare una bestia feroce, in che modo è sopravvissuto, e può spiegare anche che cosa ha acquisito a livello di nozioni e di esperienza quando è tornato indietro. E questo pacchetto, questo arco narrativo permette a quella persona di, come si dice, ingessare tutta questa esperienza e renderla fruibile anche da persone con cui magari lui non avrà mai niente a che fare. Questo è il grande potere delle storie. E dico che ce l'abbiamo soltanto noi questo potere perché noi siamo gli unici in grado di proiettare un'immagine di noi fuori dal mondo che vediamo con i nostri occhi in una situazione fittizia, che è quello che succede anche quando ci proiettiamo nel futuro con le nostre preoccupazioni, quando ci proiettiamo nel passato ricordando, sono tutte cose, noi quando ricordiamo il passato non ricordiamo informazioni, ricordiamo esperienze, riviviamo esperienze se ci pensate. Il meccanismo è sempre lo stesso, è un motore narrativo che ci contraddistingue come esseri umani. Allora, le storie, come dicevo, altro non sono che sistemi immersivi per trasmettere informazioni ed esperienze in modo virale. Chi crea un mondo narrativo consente a una persona sconosciuta di adottare il proprio sguardo sul mondo. E questa è la cosa importante. Abbiamo detto che il nostro sguardo è così limitato che noi con un solo sguardo il problema climatico non lo riusciamo a inquadrare. Ma quello che possiamo fare è accogliere gli altri sguardi e quindi se non possiamo vedere la realtà del cambiamento climatico con un solo sguardo, possiamo prendere in prestito quelli delle storie altrui per inquadrarne aspetti diversi. E storie altrui non significa soltanto i nostri compagni di classe o le persone che io ho conosciuto durante questo viaggio che chiaramente mi hanno aperto degli sguardi sul mondo, come vi ho fatto vedere, ma anche accettare lo sguardo di persone esperte che ci dicono che stiamo andando in una certa direzione. Ieri ho fatto una presentazione del mio libro, diversa da questo ovviamente, questa qui è più una lezione, quella era proprio una presentazione del libro e come spesso succede a un certo punto un signore ha alzato la mano e mi ha detto sì ma non è possibile che invece tutto quello che sta succedendo sia più colpa di eventi ciclici del clima che è la classica domanda che emerge e io non incolpo le persone che fanno questa domanda perché è una domanda che io lo so si fa perché questa idea che in realtà non sia veramente tutta colpa nostra e che sia tutta colpa di eventi ciclici è innanzitutto una cosa che ci mette al riparo dal senso di colpa ma anche qualcosa che ci dice le cose non stanno così male come ci siamo detti. Il punto è che a proposito di accogliere anche altri sguardi io penso che uno degli sguardi più importanti da accogliere è quello di persone che hanno dedicato e dedicano la propria vita e quindi decenni interi della propria vita a studiare i fenomeni climatici e le loro ricadute che sono come i medici che ci dicono che qualcosa non va, i medici li ascoltiamo, i climatologi no. Ecco uno sguardo che dobbiamo imparare ad abbracciare è anche quello degli scienziati, quello degli psicologi che magari ci spiegano perché il nostro sguardo sia limitato e perché abbiamo queste trappole cognitive, lo sguardo dei sociologi, lo sguardo di tutti, abbiamo bisogno di tutte le intelligenze per affrontare questo problema perché noi da soli con il nostro sguardo non ce la potremo mai fare. E io col mio libro ho cercato un po' di fare questo. Io avrei finito, però spero che ci siano delle domande, delle obiezioni, degli insulti se volete. Abbiamo un po' di... scusate, che ore sono? Perché io poi ho un treno. 10.28. Io ho il treno alle 11.26, abbiamo una mezz'oretta per le domande. Vi ho stancato così tanto? Non siate timidi, non c'è bisogno. Anche i professori possono far domande, anche se non sono abituati. Anche i librai, eh? Allora io mi chiedo perché ti puoi andare in New Orleans a Miami Beach per raccontare, ed era il punto di partenza che chiedeva lei, per raccontare... Ah, sì, 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 no, c'è bisogno del microfono. Scusa, scusa. Chiedevo perché c'è bisogno di andare a New Orleans a Miami Beach e le situazioni gravi che è giusto conoscere, ma spingersi fino a là, visto che era interessante il punto di partenza che spiegava prima, è importante che noi per attivarci vediamo le cose, non l'orso polare, ma Venezia che sta andando, poi Venezia è uscita, ma Venezia che sta andando sott'acqua, gli animali che muoiono, i rifiuti in continuazione. Abito a Bologna e in una piazza dove c'è a 50 metri un buco dove si butta il vetro e tutta la piazza è piena di bottiglie vuote. E quindi la domanda è perché non raccontare anche cose più vicine a noi? Allora, in questa presentazione, o meglio, questa ripeto non è una presentazione del libro, ma è un ragionamento sulla parte più psicologica del libro. Non ho parlato di alcune cose italiane che invece ci sono nel libro, tipo l'agricoltura nella pianura padana, sono andato a parlare con dei vignaioli che mi spiegano che il loro vino è considerato tra i più pregiati al mondo, però sono già nella condizione di non riuscire più a produrlo come prima. Poi sono andato sul delta del Po, non tanto lontano da qui, a raccontare anche lì la situazione di mitilicoltori e di agricoltori e una situazione di una zona che è un po' la nostra luisiana per certi versi e poi sono andato a Venezia. Allora, il motivo per cui ho deciso di non rimanere soltanto in Italia è legato al fatto che io non volevo soltanto raccontare a un pubblico italiano, nel senso è chiaro che questo libro è per il pubblico italiano, però concentrarmi soltanto sull'Italia rischiava di, non mi avrebbe permesso di raccontare alcune sfaccettature e alcune declinazioni di questo problema che invece sono più visibili e più raccontabili, perché poi c'è anche un discorso di efficacia del racconto, che sono più raccontabili in altri posti. La gentrificazione climatica in Italia, per dire, non è, per quanto a livello microscopico esista, a livello macroscopico non è ancora un fenomeno così inquadrabile, mentre Miami Beach è già una cosa che sta stravolgendo la città. Per quanto riguarda il rapporto, la nostra illusione di controllo, certo avrei potuto raccontare il Vaillant, per dire, però quante persone l'hanno già fatto. Io volevo anche andare a scardinare delle immagini che proprio perché sono lontane da noi, cioè allora è vero che io non sono andato soltanto vicino, però è anche vero che non sono andato per dire in posti che di solito sono quelli dove l'occhio del saggista climatico si concentra, come per dire l'India, l'Indonesia, il Pakistan, il deserto del Sahel, tutti i posti dove in realtà la situazione è molto più avanzata che qui. C'è anche da dire che l'Italia, sebbene sia un paese dove il riscaldamento globale ha già superato i due gradi rispetto all'epoca preindustriale, le ricadute non sono ancora così visibili come in altri posti. Quindi quando Esquire, perché tutto nasce da un piccolo reportage, piccolo, cioè erano 20 pagine di reportage però rispetto al libro piccolo che ho fatto per Esquire e loro mi hanno dato la possibilità appunto di girare per il mondo a raccontare queste cose. Quindi nasceva un po' come reportage di viaggio, quindi viaggio proprio ampio e mi interessava dare una percezione globale del fenomeno più che una percezione locale. Nel farlo però ho appunto scelto posti che per la nostra cultura, che è molto vicina, è molto americanofila anche per certi versi, il motivo per cui ci sono tre città degli Stati Uniti è quello che comunque i film che noi guardiamo sono in gran parte americani e anche la letteratura, se andiamo a a vedere la letteratura in traduzione, una buona parte è anglofona e quindi volevo andare a scardinare il nostro sguardo sulla realtà che abbiamo intorno, perché basta andare a Venezia, basta andare nella pianura Padana dove tra l'altro io sono cresciuto, ma volevo scardinare anche quelle immagini mentali come quelle degli animali che ho parlato all'inizio e le immagini da cartolina. Altre domande? Allora lei ha parlato che i cambiamenti climatici sono causati anche dal nostro istinto che si è voluto lungo decine di migliaia di anni, ma secondo lei che cambiamenti dovremmo fare su noi stessi in così poco tempo per fare una cosa sostanziale? Allora la domanda da un milione di dollari, ma grazie di avermela fatta perché mi permette di dire una cosa molto importante che magari non è non è stata chiaro da quello che ho detto prima. Il cambiamento climatico è colpa nostra nel senso che è colpa del sistema economico e produttivo che governa questo mondo da 200 anni a questa parte. Non è colpa nostra in quanto singoli, o meglio, e non è colpa nostra in quanto specie, cioè il motivo per cui non mi piace parlare di antropocene, il motivo per cui non mi piace chi dice noi abbiamo rovinato questo mondo, o la specie umana merita l'estinzione. Io non sono d'accordo con queste cose perché non credo che sia connaturato all'essere umano rovinare il posto in cui vive. Credo che sia legato a un sistema economico, produttivo e politico di fatto che ha incardinato tutto il nostro sistema sulla crescita, sulla crescita, sull'accumulo, sull'accumulo di ricchezza. E questo è giusto per fare un distinguo. Per quanto riguarda invece quello che possiamo fare noi, perché è chiaro che dopo un discorso del genere tutti si faranno la domanda, ok ma io nel mio piccolo cosa posso fare? Allora, non molto ma nemmeno niente. Quello che noi possiamo fare, la prima cosa che possiamo fare e vi sembrerà strano che io lo dica è informarsi. Questo perché, come avete visto, è un problema che per capirlo bisogna acquisire un sacco di nozioni e imparare a tenere conto di tante cose che sfuggono primo sguardo. Quindi informarsi in prima persona e leggere un pezzo al giorno, sì dai un pezzo al giorno si potrebbe anche fare, è già abbastanza per mettervi nella posizione di sapere che cosa sta succedendo e quindi neanche di comunicarlo e quindi di fare un po' quel movimento culturale, diciamo, necessario perché certe decisioni vengano prese. Poi non sono così utopista da pensare che questo basti. Questa situazione può essere risolta solo a livello politico, solo a livello di decisioni sovranazionali. E infatti il motivo per cui sono contento che Francesco Pasquale abbia parlato prima della COP26 di Glasgow è perché lì è dove letteralmente decideranno le sorti del mondo. Ci sono tante aspettative, tanta disillusione anche perché comunque negli altri COP le cose non sono andate bene. Però ecco, andando invece sul discorso della responsabilità personale, attenzione a... io penso che le scelte di consumo personali siano importanti ma non siano affatto sufficienti. C'è una narrazione messa, tra l'altro questo non lo dico io ma è acclarato e c'è un libro molto interessante sull'argomento che si chiama I bugiardi del clima di Stella Levantesi, pubblicato dalla Terza un mesetto prima del mio, e racconta come le multinazionali del petrolio e degli idrocarburi abbiano operativamente diffuso l'idea che il cambiamento climatico sia colpa dei singoli e quindi debba cambiare il modo in cui i singoli consumano e non il sistema produttivo che invece propone questi consumi. Se ci pensate, basta pensare che il termine carbon footprint, impronta ecologica, è stato inventato dalla BP. La BP è un'azienda petrolifera. Adesso non voglio entrare troppo nello specifico perché poi diventa un discorso politico, però è giusto per sapere che ci sono... io penso che per dire decidere di non mangiare più carne va benissimo perché comunque la carne bovina in particolare ha un peso a livello di emissioni sulla situazione molto più alto di quello che ci aspettiamo. Però penso che sia più importante informarsi, magari chiedersi come vengono utilizzati i soldi dalle banche a cui noi li affidiamo, perché molte delle banche, magari noi siamo i più ambientalisti di tutti e poi la nostra banca investe nel petrolio e nell'idrocarburi. Perché c'è anche questo... cosa? Eh no, anche a Milano c'è banca etica, appunto. Ah ok, bene. No, ma io non volevo fare pubblicità a una banca in particolare. Volevo dire che tra le tante cose che non si dicono è che magari bisognerebbe anche ragionare in questi termini. Sicuramente fare... ecco, comprare una bottiglietta di sprite che viene spacciata come 100% riciclabile è quasi inutile, nel senso che la plastica non è al 100% riciclabile, è uno dei materiali meno riciclabili che esistano e questa cosa qua non ci viene raccontata. L'alluminio è riciclabile al 100%, la plastica no. Quindi insomma c'è tutto, però adesso qua rischiamo di andare. Spero di aver risposto alla tua domanda, però non voglio neanche aprire tutto un dibattito sulla questione consumi. Ecco, per me personalmente quando la gente dice bisogna consumare meglio, io dico secondo me bisogna consumare meno. Questo è un po' la questione. Che noi abbiamo dei consumi folli, sprechiamo tantissimo cibo per dire. Ma non ci viene detto di consumare meno, ci viene detto di consumare meglio. C'è un motivo. Altre domande? Grazie a voi. Vabbè, allora io vi ringrazio, ringrazio la Fiera delle Parole, ringrazio Francesco Pasquale, ringrazio la città di Padova e grazie per avermi ascoltato. Grazie. 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 Grazie.